Gennaro, sei entrato benissimo in partita, una spinta costante sulla fascia destra, sei anche l'esempio che comunque c'è bisogno di tutto il gruppo da qui fino alla fine. Sì, sicuramente sono stato felicissimo oggi perché ci voleva questa vittoria, lo volevamo in tutti i modi e l'abbiamo ottenuta. Io sono felicissimo di aver contribuito a questa partita. Hai respirato anche un Bentegodi stupendo, quanto sono stati importanti, sono fondamentali i tifosi oggi nel spingervi e anche nel recuperare una partita che sembrava scapparvi via? Infatti oggi ci hanno dato quell'arma in più, ci hanno sostenuto fino alla fine, ci hanno creduto più di noi e siamo felici di averli fatto felici. Mi aggiungo io, il calcio è uno sport meraviglioso, uno magari entra al quarantesimo, una partita che sembrava segnata, cosa hai pensato in quel momento? Io quando sono entrato ho detto mamma mia che sarà durissima e invece poi il calcio è bello perché ti fa vivere delle emozioni incredibili come adesso che stiamo perdendo 2-1, 3-2 in 5-7 minuti, una cosa fantastica. Ecco, segno anche di una grande unità di gruppo effettivamente, tu magari finora in campo non hai giocato tantissimo però l'abbiamo sempre detto che sei sempre stato importante appunto anche per lo spirito di gruppo, direi una dimostrazione invece anche a livello tecnico che Troianiello c'è e magari si candida anche per giocare ancora più minuti in questo finale di campionato? Sì sì, infatti sono felice oggi di aver contributo non solo come gruppo ma di aver messo un po' delle mie qualità e oggi ci abbiamo messo tutto il possibile per portare a casa questi tre punti. Cos'è cambiato invece e magari in te in questo? Hai migliorato il tuo stato atletico perché appunto Pecchia ti prende sempre più in considerazione? Anche oggi appunto un ruolo determinante, ti ha detto di stare largo sulla destra, puoi dirci anche cosa ti ha detto magari prima di entrare? Sì sì, il mister mi ha detto di fare tutta la fascia e niente, di spingere il più possibile perché dovevamo vincere e quindi voleva che spingevo tanto e mi è venuta bene questa volta. Quindi però dall'inizio ad adesso sto molto meglio perché mi sento ancora più fiducioso e i ragazzi devo dire la verità mi hanno sempre aiutato in questo. Bene, un proclama un po' per queste ultime tre gare di campionato, un po' anche per i tifosi magari visto che oggi meritano un ringraziamento particolare. Sicuramente oggi non ci azzeccano niente in questa categoria, non è una frase fatta ma è la verità, ci hanno spinto, sono un pubblico fantastico, sono già frasi tutte fatte però è la verità.